Una giornata simbolica per Vieste che con l'evento della Fanoia di San Giuseppe inaugura la sua primavera con l'arrivo di un crescente numero di visitatori attirati dalle meraviglie del luogo degli eventi itineranti. Una non edizione che apre il sipario con la sfilata sui corsi principali della città garganica, dei gruppi folcloristici ospiti sotto il segno della musica popolare, dei cantori di Carpino, dei Sud Folk, dei No Fang, del ritmo coinvolgente dell'orchestra della Notte della Taranta di Melpignano e dell'artista reg Scarramucci, in mezzo a una marina piccola in festa tra luci, stem da artigianato locale e delizieno gastronomiche di punta dal caciocavallo impiccato ad altri prodotti tipici locali. Una location suggestiva perfetta in cui molti presenti tra un bicchiere di vino, un piatto di cavatelli ed altri prodotti dalla tradizione viestana hanno degustato l'atmosfera ideale di piacere e di divertimento.